L'immunità di gregge per le province di Arezzo, Siena e Grosseto non è più un miraggio. La ASL Toscana a sud-est ha infatti sfondato il muro dell'80% dei vaccinati e è arrivata all'80,03, la percentuale indicata per il raggiungimento appunto dell'immunità di gregge. In termini assoluti sono 493.367 i cittadini che hanno effettuato il ciclo completo della vaccinazione, 87.572 hanno invece ricevuto ancora soltanto le prime dosi, 18.507 sono i cosiddetti inadempienti definitivi esonerati per motivi di salute, pregressa e immunità da malattia naturale o da vaccinazione effettuata altrove, rifiuti definitivi e non tracciabili. Abbiamo raggiunto questa percentuale con un mese di anticipo rispetto alla data indicata dalla regione, afferma il direttore generale della ASL Toscana a sud-est Antonio Durzo, un risultato per il quale ringrazio tutti gli operatori dell'azienda che si sono impegnati al massimo, con grande professionalità ed eccezionale disponibilità. L'azienda ha messo in campo tutti gli strumenti possibili per favorire le vaccinazioni, dai grandi ai medi centri vaccinali, dalle sedute su prenotazione a quelle con accesso libero, al camper, durante eventi, feste e tra poco anche davanti a fabbriche, centri artigianali e commerciali. Un grande sforzo che ha registrato la collaborazione delle associazioni di volontariato, dei medici in pensione, dei mediatori culturali, come nel caso delle vaccinazioni destinate ai cittadini stranieri.